Scelta difficile dove indicare la mia scrittrice preferita, ma dovendo farla penso alla islandese Audur Ava Olafsdotter, per la capacità peraltro comune a molti narratori di quell'area geografica di farmi oltrepassare i confini della quotidianità invadendola con il suo immaginario. Il suo è un narrare dal polso forte che richiede al lettore l'impegno per comprendere anche il non detto, a volte aspro, come i paesaggi dell'isola da cui proviene, e le impennate poetiche, che talvolta si inseriscono nello scritto, danno conto del diuturno duello tra radicamento e voglia di fuga da un isolamento che è tanto fisico quanto morale. Quell'isola, come racconta il titolo di uno dei suoi romanzi, è una donna che ha idee ben precise su quello che deve essere il suo destino ed è pronta a pagare ogni prezzo pur di realizzarlo grazie a un carattere forgiato nella terra dei vulcani. Non per niente la protagonista di Miss Islanda si chiama Ecla, che altro non è se non il nome di un vulcano.